Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati da Una Game al Bella Robby Allora, in questo video vi parlerò della cessione di Paolo Lopez e Cengiz Sunder al Marsiglia Bene, prima di parlarvi di questo argomento ci tengo a dire che questa sera ci sarà Italia Spagna e io sarò in live su Youtube a commentare Italia Spagna magari con qualche spettatore, qualcuno che mi entrerà in live qualcuno che parteciperà alla live quindi vi faccio soltanto questo piccolo annuncio prima di cominciare con il video e ovviamente vi invito ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun video Allora, partiamo dal turco Cengiz Sunder che dopo l'esperienza non brillante all'Eister City ha fatto ritorno nella capitale dove verrò e non rientrerebbe nei piani del neo allenatore giallorosso Jose Mourinho e quindi per questo qualche settimana fa si è parlato di un sopprossibile trasferimento in prestito al Marsiglia dove un trasferimento che è stato effettuato e quindi appunto il giocatore turco è pronto per la sua avventura al Marsiglia dove verrà ceduto con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus e inoltre alla Roma verrà garantito il 20% sulla rivendita in caso quindi Marsiglia comprasse e vendesse il giocatore Mentre per quanto riguarda il portiere Paolo Opez che reduce da due stagioni deludenti con la Roma anche lui qualche settimana fa si è parlato di un suo possibile trasferimento al Marsiglia e questo trasferimento è stato effettuato e quindi anche lui nella giornata di stamani dovrebbe raggiungere Marsiglia dove praticamente verrà ceduto anche lui però con un prestito con di riscatto fissato a 12 milioni che potrà diventare obbligatorio in caso raggiungesse la ventesima presenza con la maglia del club francese quindi ragazzi Paolo Opez se dovesse andare a Marsiglia dovrebbe proprio fare il titolare fisso senza che facesse il secondo, il terzo eccetera dovrà giocare, dovrà giocare tanto altrimenti la Roma rischia di tenersi ancora il giocatore e trovargli un'altra sistemazione che non sarà facile quindi per questo io mi auguro che Paolo Opez giochi tanto in questa nuova squadra quindi Paolo Opez, no scusate Unger ha già effettuato nella giornata di domenica le visite mediche e firma sul contratto mentre invece il portiere spagnolo come ho detto appunto prima oggi la giornata di stamani raggiungerà Marsiglia dove effettuerà visite mediche e firma sul contratto con il club francese e potrà raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra e soprattutto il suo turco con cui ci ha giocato già nella stagione 2019-2020 con la Roma prima che Cengiz Sunder venisse ceduto in prestito al Leicester quindi allora sono due cessioni che sembrano strane sono un po' strane perché ma invece sono molto intelligenti perché è vero che è vero che Cengiz Sunder lo potevano diciamo potevamo magari potevamo diciamo darlo via con magari se lo tassimo via potevamo mettergli che ne so 15 milioni però però ragazzi vedete abbiamo già già 20% che c'ha una buona cosa una buona una buona percentuale quindi quindi ragazzi sembra che 8 milioni sia una sciocchezza perché magari per un giocatore che alla Roma abbia fatto bene magari lo potevamo valutare un po' di più però però vedete ragazzi ci stanno più i bonus e la percentuale di vendita che magari che magari possono soddisfare possono soddisfare diciamo i giallorossi possono quindi mentre invece mentre invece Paul Lopez secondo me una cifra di 12 milioni che io riterrei riterrei giusta sapete perché io ritengo tutte e due sapete perché io ritengo giusto la cifra con cui potremmo vendere Under e la cifra con cui potremmo vendere Paul Lopez cioè mi soddisfatto mi rendono soddisfatto perché perché in tutto la Roma in caso di queste due cessioni definitive guadagnerà ben 20 milioni dai cartellini dei due giocatori e inoltre la vendita di questi due giocatori che è molto importante perché porterà ad un abbassamento del monte ingaggi di ben 18 milioni di euro quindi la Roma si libererà di due ingaggi che non sono comunque pesanti uno guadagnerà 3 milioni e l'altro 2 quindi Paul Lopez guadagnava 3 milioni e Under 2 milioni quindi non sono due ingaggi molto pesanti però però sono importanti per mantenere mantenere stabile diciamo il monte ingaggi ecco perché già già la Roma diciamo ce n'ha di giocatori con ingaggi pesanti come Edin Dzeko Pedro anche Pastore che soprattutto Pastore che ovviamente sono due anni che dobbiamo darlo via perché è un ingaggio pesante e quindi tra l'altro queste due cessioni saranno molto importanti in particolare la cessione di Paul Lopez sarà una cessione molto molto importante perché darà il via libera all'arrivo definitivo di Rui Patrizio che ovviamente entro 48 ore si chiuderà definitivamente la trattativa e infatti su Rui Patrizio presto ci farò anche un video ci farò anche un video io sono soddisfatto di ricevere questi due giocatori per Paul Lopez sono molto soddisfatto perché a me Paul Lopez è un portiere che non mi ha veramente mai convinto come l'ho detto nello scorso video quando parlavo del possibile che non era ancora detto del possibile trasferimento di Paul Lopez e Under a Marsiglia ve ne avevo parlato che però era una trattativa che non era ancora chiusa comunque oggi posso dirvi che adesso che Paul Lopez non aveva la via ci sono molto molto contento un portiere che non mi ha proprio mai 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 convinto non mi ha quasi mai convinto e quindi quindi io spero che io gli auguro il meglio che possa rifarsi nell'avventura nella sua nuova avventura a Marsiglia Henry Zundere invece è un giocatore che a me convinceva nei primi due anni a Roma è partito a bomba ragazzi è partito veramente a bomba secondo me è stato uno dei miei giocatori che mi ha colpito di più uno dei giocatori che è veramente esploso ha fatto abbastanza gol e quindi ragazzi che però purtroppo è stata purtroppo la sua avventura già rossa è stata poi incondizionata purtroppo diciamo cioè a renderlo diciamo a farlo diventare da titolare a esubero non l'ha condizionato tanto perché c'era schifo ma anche perché diciamo è stato reduce da diversi infortuni che ovviamente ne hanno fatto perdere lucidità e allo stesso tempo anche tanta la forma quindi io spero che anche lui come a Paolo Lopez gli auguro che possa rifarsi che possa crescere ancora perché è un ragazzo giovane è un ragazzo molto giovane e spero che possa rifarsi nell'avventura contro nell'avventura al Marzia che possa trovare molto spazio ecco quindi 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 che dire ragazzi allora questa era la mia era la mia opinione riguardo questa diciamo era la questione ecco la questione riguardo la cessione di Undere e Paolo Lopez vi ho spiegato anche la mia opinione quindi che dire ragazzi se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un mi piace e un commento su cosa ne pensate sulla cessione di Paolo Lopez e Undere e che ne pensate della mia opinione quindi che dire ragazzi io vi mando un salutone un bacione e noi ci vediamo stasera nella live di Italia Spagna ciao a tutti ragazzi